Un annuncio di salvezza e di speranza. In apertura della pagina Spezzina di Avvenire potete leggere il messaggio del Vescovo alla Diocesi in occasione del Natale che ormai si avvicina. Ancora una volta siamo invitati a volgere il nostro sguardo alla grotta di Betlemme. Da essa si media luce e speranza. Infatti non si possono rimanere affascinati dal prodigio veramente grande di una nuova vita. Queste le prime parole del messaggio del Vescovo che potete trovare appunto integralmente sulla pagina Spezzina di Avvenire. Il box centrale è dedicato ad una celebrazione che si svolgerà il prossimo 8 gennaio. Tre nuovi diaconi saranno appunto consacrati. Tre nuovi diaconi della Diocesi Spezzina. Si tratta di Alessio Batti, Stefano Ricci ed Emilio Valle. A centropagina, Palletti conclude gli incontri nei luoghi di lavoro e con le scuole. Ultimi appuntamenti con il Vescovo in vista appunto delle prossime festività natalizie. A fianco, sempre in tema natalizio, domani pomeriggio in Cattedrale la Messa di Natale delle Comunità. Appuntamento alle 17.30 nella Cattedrale di Cristo Re. Il Vescovo Luigi Ernesto Palletti presiderà la Messa di Natale delle Comunità di Cometa e di Crescita Comunitaria. A fondo pagina, un bambinello pugliese sarà nel presepe di Pitelli, dopo che l'anno scorso era stata sfregiata la statua del bambinello. A fianco, mercoledì, il Vescovo inaugurerà alle ore 17 la mostra di Natale degli artisti cattolici, la mostra degli artisti Ucai. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire. Grazie. Grazie.